Volete imparare a realizzare questo bracciale con la tecnica del macramè? Bene, allora vi spiegherò tutti i passaggi subito dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati in un nuovo tutorial. All'interno di questo video vi spiegherò come realizzare questo bellissimo bracciale con la tecnica del macramè. I materiali che vedrete all'interno del video mi sono stati forniti dall'azienda Penda Hall. Vi ho già mostrato l'unboxing in un video precedente che potete andare a recuperare. Potete recuperare anche il tutorial della lettera N che ho realizzato sempre con i loro materiali. Questo bracciale è stato realizzato con due colorazioni di cordini che sono bellissimi perché hanno un effetto molto lucido. La prima colorazione che andremo ad utilizzare è quella blu. Ovviamente troverete all'interno della descrizione del video tutti i riferimenti ai materiali utilizzati e che troverete sul sito Penda Hall. Utilizzeremo poi anche questo cordino turchese, bellissimo e secondo me la combinazione di colori è molto molto bella. Questa tipologia di cordino si chiama Chinese Cord e lo spessore è di 0,8 mm. La prima cosa che dobbiamo fare sarà quella di tagliare 4 metri di cordino blu divisi per 2 metri, cioè 2 metri e 2 metri che ci serviranno appunto per realizzare le estremità del nostro bracciale. L'anima invece la realizzeremo con la colorazione turchese e taglierò 2 metri anche di questo filo che però utilizzeremo sia ovviamente per l'anima centrale e poi andremo ad utilizzare uno spezzone anche per la chiusura come ho fatto qui con il cordino bianco. Quindi lo utilizzeremo sia come anima del nostro bracciale ma anche come spezzone per creare la chiusura scorrevole. Eccola qui. Non facendo la treccia ovviamente scorrerà ancora meglio quindi per il nostro bracciale non la realizzeremo. Come vedete ho tagliato 3 spezzoni di filo da 2 metri. Quindi 2 metri, 2 metri e 2 metri. Tolgo il filo turchese, prendo uno dei fili blu e lo piego a metà. Il primo è pronto. Faccio la stessa cosa con il filo blu che mi è rimasto e con l'altro filo turchese. Allora dobbiamo posizionare i fili in questo modo. Due fili blu, due fili turchesi e due fili blu. Adesso io in pratica lascio un 10 centimetri di filo e faccio un nodo. Ecco qui. Collego tutto con la pinzetta. Quindi in questo modo qui l'altro capo di filo esce fuori. Poi separo i due fili blu a sinistra e i due fili blu a destra e blocco la parte centrale turchese dall'altro lato. Ora siamo pronti per iniziare a realizzare il nostro bracciale con il nodo piatto. Prendo i fili di sinistra e li porto al di sopra dell'anima centrale turchese. In questo modo qui. Prendo i fili di destra che devono passare al di sopra dei fili di sinistra, quindi quelli blu, e poi li spingiamo al di sotto di quelli turchesi e all'interno dell'asola di sinistra. Prendiamo le estremità con l'altra mano e tiriamo il filo. Tiriamo entrambe le estremità equamente in questo modo. Continuiamo. Creiamo la solina a destra, prendo i fili di destra e li posizioniamo al di sopra dei fili turchesi. Prendo i fili di sinistra e li passo al di sopra di quelli blu, al di sotto di quelli turchesi e all'interno della solina di destra. E tiriamo contemporaneamente tutte e due le estremità. In questo modo qui. Tiriamo bene il filo. Prendo i due fili di sinistra e li poggio sopra i fili centrali. Prendo i due fili di destra, vanno al di sopra e poi al di sotto l'asola di sinistra. Prendo i due fili di sinistra e li porto al di sotto di tutti i fili e poi al di sopra dell'asola di destra. Prendo i fili di sinistra e li porto al di sopra. Prendo i fili di sinistra e li poggio sui fili centrali. Prendo i fili di sinistra e li porto al di sopra, poi al di sotto della solina. Devono attraversare l'asola di sinistra e poi al di sopra. Come vedete si sta creando il nostro bracciale. In questo modo qui. Ripetiamo. Due fili di destra, perché la solina ce l'abbiamo a destra. in questo modo qui. Prendo i fili di sinistra, li passo al di sopra dei fili blu. Al di sotto dei fili turchesi e poi al di sopra della solina blu di destra. E tiriamo il filo. Adesso l'asolina ce l'abbiamo a sinistra e rifacciamo. A solina con i fili di sinistra, al di sopra dei fili turchesi. Fili di destra, passano al di sopra dei fili blu, al di sotto dei fili turchesi e attraverso l'asola di sinistra. E tiriamo il filo. Asola di destra. Fili di sinistra. Passiamo sopra i fili blu, sotto il filo turchese e attraverso l'asola di destra, da sotto a sopra e tiriamo il filo. Ripeto. Asola con il filo di sinistra. Fili di destra. Passo al di sopra dei fili blu, al di sotto dei fili turchesi e attraverso l'asola di sinistra, dal basso verso l'alto e tiro il filo. Asola a destra. Asola a destra, quindi ricreiamo l'asolina a destra. Fili di sinistra, passano al di sopra dei fili blu, al di sotto dei fili turchesi e da sotto a sopra i fili dell'asolina a destra. Asolina con il filo di destra. Alziamo i fili di sinistra, al di sopra di quelli blu, al di sotto di quelli turchesi e li spingiamo nell'asolina di destra e li tiriamo con l'altro, con le altre dita. E poi tiriamo il filo. Forse così è più semplice. La solina si è creata qui, quindi a solina a sinistra. Fili sopra i fili blu. Poi al di sotto dei fili turchesi e li tiriamo fuori dalla solina di sinistra. La solina si è creata a destra, a solina a destra. Fili sopra quelli blu, sotto i turchesi e poi li tiriamo fuori dalla solina di destra. A solina a sinistra. Fili sopra quelli blu, sotto i turchesi e li tiriamo fuori dalla solina di sinistra. Questo è il risultato del bracciale. Continuiamo fino a raggiungere la lunghezza desiderata. A solina di destra. Fili di sinistra li passiamo al di sopra dei fili blu, al di sotto del filo turchese e poi li riprendiamo con l'altra mano e li tiriamo su. E tiriamo il filo. Tiriamo bene entrambi i fili perché essendo una lavorazione a due fili le asoline devono combaciare. La solina di sinistra, i fili sopra, poi sotto e attraverso la solina di sinistra. Li tiriamo con le altre dita. E tiriamo bene il filo. Adesso continuo fino a raggiungere 15 centimetri. Come vedete io qui ho fatto 5 centimetri e mezzo. Vado a creare un bracciale di 14-15 centimetri e ci vediamo poi per la chiusura. Come vedete ho raggiunto la lunghezza desiderata che è praticamente di circa 15 centimetri e quindi possiamo staccare il nostro bracciale dal telaio diciamo così. Ho allargato un po' le maglie per far fuoriuscire la parte turchese interna. Non so se si vede bene. Comunque dal vivo è molto chiaro. Adesso vado a sciogliere il nodo temporaneo che ho creato all'inizio. Vado ad assicurarmi che la misura sia quella giusta e per me lo è. Si vede adesso la parte turchese interna e adesso in pratica sovrappongo le due estremità. Vado a tagliare i fili anche dall'altro lato. Poi apro questi fili qui. Tiro bene bene per aprire il bracciale. Adesso siamo pronti per creare la nostra chiusura. Andiamo a creare quindi la chiusura dopo aver posizionato il bracciale in questo modo qui. Passiamo i due fili turchesi al di sotto di tutti i fili. Creiamo la solina con la parte di sinistra. I fili di destra passano al di sopra dei fili turchesi di sinistra. Al di sotto dei fili centrali e tiriamo bene bene il filo. La solina si è creata a destra quindi creo appunto la solina a destra. Passo al di sopra poi al di sotto e tiro i fili dal basso verso l'alto attraverso la solina di destra e tiro il filo. Passo al di sotto da sopra a sotto e li tiro sempre dal basso verso l'alto nella solina di sinistra. Guardate quanto è carina la chiusura. Questa chiusura vi consentirà di regolare il bracciale a seconda del vostro polso. Una volta creata la chiusura della grandezza che più preferiamo io procedo in questo modo qui. Vado a tagliare le estremità, anzi mi sa che è ancora un po' lunga quindi faccio in questo modo qui. Ecco qui. Adesso vado a fare dei nodi. Quindi uno sull'estremità destra. Uno sull'estremità sinistra. Oppure potete creare anche delle piccole trecce come più vi piace, come ho fatto io magari nell'altro bracciale di prova che ho realizzato. Io in questo momento lo preferisco così e come vedete potete allungare, accorciare il bracciale e indossarlo. E il nostro bracciale in macramè sarà pronto. Questi potete anche accorciarli un po' ovviamente io li ho tenuti un po' lunghi ma li andrò ad accorciare un altro po' e questo è il risultato finale. Mi piace moltissimo la chiusura del colore appunto complementare al bracciale e il turchese che fuoriesce leggermente dalle maglie del bracciale. Cosa ne dite? Vi piace? Io spero di sì. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti di questo video e fatemi sapere se volete altri tutorial sul macramè. Che è una tecnica che mi piace molto ma che ho messo un po' da parte negli anni quindi sarei contenta di riprenderla insieme a voi. Ringrazio Panda Oil per avermi inviato i materiali e nello specifico i cordini per realizzare questi splendidi bracciali e ne realizzeremo sicuramente altri insieme magari nei video su TikTok o su Instagram o sulla pagina Facebook Natalia Savastano Designer. Quindi seguitemi anche lì mi trovate come la perlinatrice di TikTok su TikTok Natalia Savastano su Instagram e Natalia Savastano Designer sulla mia pagina Facebook. Grazie ancora per la visione i materiali li trovate in descrizione mi raccomando e ci vediamo al prossimo video. Ciao!